Il 15 di aprile di 150 anni fa a Parigi, al numero 35 di Boulevard de Capucine, apriva i battenti la mostra della Società Anonima degli Artisti, Pittori, Scultori e Incisori, un'associazione effimera i cui protagonisti avrebbero cominciato poco dopo a chiamarsi impressionisti. L'impressionismo è una corrente artistica che bene o male tutti conosciamo nelle sue linee generali per la fama romantica che circonda i suoi protagonisti, considerati un po' i primi bohemian del mondo artistico, e per la gradevole fruibilità dei loro quadri basati sulla luce e sul colore. In realtà proprio queste caratteristiche fanno sì che l'impressionismo sia ben poco conosciuto al di là dei numerosi luoghi comuni e il suo ruolo come vera e propria rivoluzione artistica spesso passi in secondo piano. Il corso che Scola Palatina ci propone vuole essere l'occasione per uno studio completo e approfondito per comprendere a fondo le ragioni che fanno dell'impressionismo lo snodo fondamentale che ha portato appunto a rivoluzionare l'approccio ottico e emotivo alla realtà, aprendo così la strada agli sviluppi di fine ottocento e del primo novecento. Le lezioni in cui si articola il corso partono da una lezione introduttiva aperta a tutti in cui innanzitutto cercheremo di inquadrare il contesto in cui l'impressionismo si forma e si sviluppa quindi la Parigi dei decenni dal 50 al 70 80 circa. Vedremo poi sempre in questa lezione introduttiva quale fu l'approccio visuale ottico degli impressionisti alla realtà per capire fino a che punto e attraverso quali vie l'impressionismo fu una vera e propria rivoluzione e infine affronteremo un tema che normalmente non si tratta e si conosce molto poco ma in realtà è veramente importante e cioè il rapporto fra impressionismo e rivoluzione industriale fino a che punto l'industria nascente e che si stava veramente sviluppando è stata importante per permettere questo nuovo approccio alla realtà. Vedremo poi la storia del movimento impressionista partendo dalle sue premesse che hanno avuto un'influenza importante la scuola di Barbizon da una parte e il Salon des Refusés del 1863 dall'altra. Vedremo la nascita dell'impressionismo, i suoi primi passi negli anni 60 e 70, il suo pieno sviluppo e gradualmente l'accettazione ma al tempo stesso l'inizio della crisi negli anni 80 e poi fino al termine cercando di capire come questa storia del movimento impressionista ha come accennavo aperto la strada a quello che è venuto dopo. Avremo poi un certo numero, sette lezioni dedicate alle biografie degli artisti, alcuni sono naturalmente notissimi ma per esempio di Renoir Degas approfondiremo anche la produzione plastica, la scultura che non frequentemente viene raccontata e spiegata. Andremo anche a conoscere le due protagoniste femminili del movimento impressionista Berte Morisot e Mary Cassatt oltre naturalmente a Manet, Monet, Bazille, tutti i protagonisti fondamentali. L'ultima parte del corso costituisce una vera novità. Andremo a conoscere infatti l'impressionismo fuori di Francia. Due lezioni saranno dedicate infatti alla Spagna, dai primi cosiddetti impressionisti fino a quegli artisti come Santiago Rosignol che sono di fatto a metà strada fra impressionismo e modernismo spagnolo, mentre una lezione sarà interamente dedicata al cosiddetto impressionista spagnolo che è Joaquín Sorroia. Due lezioni saranno dedicate all'impressionismo in Italia cercando di capire se c'è stato un impressionismo in Italia, soprattutto se i famosi macchiaioli sono veramente stati i cosiddetti impressionisti italiani. Una seconda lezione invece tratterà i veri impressionisti italiani che si erano proprio per questo trasferiti a Parigi, mentre l'ultima lezione tratterà quello che veramente è stato l'impressionismo vero fuori di Francia, cioè l'impressionismo americano. Vi aspetto quindi con molte novità e soprattutto con un approfondimento molto molto speciale nei confronti di questo movimento di di cui il 2024 si fa portavoce nel mondo.